Buon lunedì! Oggi è la festa di Santa Maria Maddalena. Maria era di Magdala, piccola città della Galilea, situata sul lago di Tiberiade. L'incontro con Gesù le cambiò radicalmente la vita. Trovò in lui il perdono e la forza per ricominciare una vita nuova, migliore, più bella. E per questo che lo seguì pur non essendo della cerchia degli apostoli, anche se una certa letteratura che si fonda solo su supposizioni la ritiene, che vede Maria Maddalena tra gli apostoli, ma non è così. Maria voleva talmente bene a Gesù che lo seguì, fino ai piedi della croce. Anche in questo caso occorre fare una precisazione, il fatto che li volesse bene non vuol dire che ne fosse l'amante o la compagna, come alcuni costruttori di gossip amano supporre. Potremmo dire che la figura di Maria chiede a tutti noi di farci però una domanda, ma io amo Dio. Maria Maddalena voleva davvero bene a Gesù, perché lei aveva cambiato la vita, le aveva fatto scoprire di essere amata, di essere preziosa, di potersi riscattare da una vita imbruttita, diciamo così, no? Ecco, ma io amo Dio, o meglio, li voglio davvero bene, perché amare ci può amare soltanto lui, noi al massimo li possiamo voler bene. Prova affetto per Dio. Solitamente in occasione della festa di Maria Maddalena amo sottolineare il Vangelo che racconta del suo incontro con Gesù risorto, ma oggi invece vi invito a leggere il testo della prima lettura. È tratto dal Cantico dei Cantici e parla di amore. Vi leggo il brano per intero, ve lo leggo tutto. Così dice la sposa, sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città per le strade, per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia. Parole che mi fanno pensare innanzitutto a questo. Nella nostra vita possiamo avere diversi amori, persone che ci amano, che amiamo sotto diverse sfumature e tonalità. C'è l'amore del partner, l'amore dei figli, c'è l'amicizia, i nostri desideri, i nostri progetti, i nostri sogni, l'amore per il proprio lavoro. Insomma l'amore ha tante sfumature. Tra i tanti amori della nostra vita c'è anche l'amore per Dio. Io credo all'amore che Dio ha per me. L'ho mai sperimentato, l'ho mai avvertito su di me. Tra i tanti amori della mia vita c'è anche quello per Dio. Riconosco che c'è anche l'amore di Dio, che c'è un amore di Dio nei miei confronti. Si può vivere bene lo stesso anche senza percepire questo amore divino? Ma sì per carità, ma è come però se ci mancasse un pezzo, come se dalla nostra esistenza ci fosse un vuoto, che niente e nessuno può colmare. Nella nostra vita possiamo avere tanti amori, possiamo voler bene a tante persone, sentirci voluti bene da tanti, ma penso che scoprire anche l'amore che Dio ha per noi e cercare di volere bene a questo Dio che ci ama, penso che darebbe un di più alla nostra esistenza. Buon inizio di settimana a tutti.